Facciamo il punto sul turismo che l'anno scorso è ripartito dopo le difficoltà dovute al covid. Come è andata durante le festività natalizie per quanto riguarda le presenze a Prato e provincia? Ma è andata in un modo abbastanza controverso perché siamo partiti abbastanza bene. Il Natale che non è una data a noi congeniale tuttavia ha riservato delle ottime sorprese e il Capodanno discretamente c'è stato poi via via un certo calo dovuto molto anche alle dichiarazioni agli annunci che facevano un pochino riflettere i turisti che sono prevalentemente se non assolutamente italiani in questo momento e facevano riflettere sul fatto che effettivamente le cose non stanno andando molto bene dal punto di vista economico e questo ha sicuramente influito soprattutto sulla riduzione della permanenza nel viaggio e nella vacanza natalizia. Quanto riguarda le linee su cui investire per lo sviluppo del comparto turistico a Prato ci sono le competizioni sportive da questo punto di vista in via di organizzazione una manifestazione che potrà dare dei risultati soddisfacenti? Sì, noi abbiamo sempre ritenuto e questo è un appello anche che facciamo al Comune di Prato che d'altra parte ha sempre seguito in maniera costante il turismo sportivo noi abbiamo sempre ritenuto che fosse una fonte importante dal punto di vista economico e dal punto di vista sociale per la nostra città e vengo appunto da una riunione con un paio di associazioni fratesi che organizzeranno un importantissimo raduno outdoor di turismo sportivo nel prossimo mese di marzo e confido nell'appoggio dell'amministrazione comunale perché questo mi sembra un'altra ottima occasione per far conoscere Prato e soprattutto anche per far riempire le nostre aziende alberghiere. Capitolo tassa di soggiorno, la possibilità che a Firenze si arrivi addirittura ad una tariffa di 10 euro a notte a persona rende competitive le camere pratesi lei da questo punto di vista intende rivolgere un appello al Comune di Prato? Sì, è un po' un'intervista da appelli questa ma faccio anche l'appello in questo senso ringrazio Nardella perché effettivamente se porterà come farà la tassa di soggiorno 4 stelle a 10 euro noi avremo la possibilità di essere ancora più competitivi e quindi non solo sulla qualità ma ancora di più sul prezzo l'importante è che non venga assolutamente toccata in rialzo la tassa di soggiorno che adesso viene pagata dagli alberghi. Saranno novità importanti anche per federe alberghi, ci sarà una fusione con Firenze? Sì, non c'è ancora niente di scritto ma ormai è quasi all'arrivo la definizione di una fusione tra la nostra associazione e la consorella fiorentina e questo nell'ottica di una politica turistica che noi dopo molte riflessioni abbiamo deciso di intraprendere ormai fisicamente siamo uniti a Firenze abbiamo l'intenzione e la necessità di aggiungere al mercato turistico pratese una parte di quello fiorentino soprattutto se Firenze non espanderà più l'offerta e questo dovrebbe essere assolutamente certo se riuscirà, come riuscirà a contenere l'espansione delle locazioni turistiche in questo caso noi credo che potremmo essere una valida alternativa per il mercato fiorentino soprattutto se sapremo unirci ancora di più con i collegamenti attraverso una ciclovia che è in previsione, attraverso una tramvia che è la nostra grande speranza e con un collegamento più intenso attraverso la ferrovia